Innanzitutto volevo ringraziare Michele Emiliano per averci nominato, me e il mio amico stornaiolo Toti e Tata a compiere questo simbolico ma importante gesto per aiutare la raccolta fondi per la ricerca contro la SLA. Però a mia volta volevo nominare due miei amici, uno un compagno di tante battaglie, Gennaro Nunziante, l'altro l'amichetta di tournée, Lunetta Sabino. Potevate farlo più leggero però eh. Vado. Non dimenticate di andare a fare il vostro versamento, io domani mattina lo farò e presenterò documentazione alla faccia di tutti quelli che non ci credono, per non dimenticare.